Orgine del giorno 488, ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane. Primo firmatario Stefano Bruno Galli. Chiesto di intervenire il consigliere Buffani e la facoltà. Grazie Presidente, credo che questo sia un tema caro a tutti. Qui si parla oggettivamente del personale delle province, questo è l'ennesimo esempio di come il decreto del Rio, la riforma del Rio delle province sia una bufala. Oggi ci troviamo con del personale che in teoria deve dare dei servizi, che non sa che fine farà, le province non sono state abolite come era stato millantato e quindi oggi giochiamo un'altra volta con la vita delle persone. Ci sembra un atteggiamento totalmente scorretto, inoltre noi oggi avremo il rischio di dare dei disservizi ai cittadini sulla protezione civile, sulle scuole, sui trasporti, proprio per questo modo di fare. Allora noi riteniamo che sia fondamentale trovare delle soluzioni che vadano a tagliare i costi inutili delle province, come per esempio gli immobili presi in affitto, che non servono a nulla queste mega opere faraoniche nel deserto e tutelare i lavoratori e le competenze che adesso hanno e che hanno anche assegnate dalla regione. Perché non dimentichiamoci che come ci ricordava Garavaglia stamattina diverse competenze sono rimaste in capo a loro. Quindi forse è il caso di valorizzare il lavoro che è stato svolto negli anni, perché ricordiamoci che sono stati spesi dei soldi pubblici per formare queste persone, difendere la loro professionalità, tenerli a servizio dei cittadini, ottimizzando i costi. Perché noi eravamo a favore dell'abolizione delle province, ma bisogna fare una razionalizzazione seria e non questi disegni fatti alla Carlona. Grazie.